Virtus è già in partenza e che domani raggiungerà la Liguria per preparare al meglio la sfida di Chiavari e con largo anticipo, troppo importante la trasferta per non pensare ad ogni minimo dettaglio e giocarsi fino in fondo le speranze di un successo corsaro che scaccerebbe eventi di crisi. Niente da fare per a mente Ferrari che rimarranno a casa per i guai muscolari, da valutare la prossima settimana le loro condizioni, rientrerà invece Paghera che si giocherà con Bacinovic e Lescianza al centro della zona nevralgica. Ovvio che il giocatore a scalpitare di più sia Eric Lanini, l'ex di turno impiegato sinora solo a tratti da Mr. D'Aversa. Probabile che giochi proprio lui titolare a sostegno di Marilungo e Piccolo, ma per la formazione ci sarà ancora da riflettere nei prossimi due giorni. Mr. D'Aversa, la certezza rimane il progresso nel gioco? Sì, sicuramente, però non basta, quindi ci auguriamo che oltre la prestazione iniziamo a portare a casa qualche punto che è importante per la classifica. Domani è la partenza, che vigilia è? Sì, domattina faremo un allenamento a San Buceto, dopodiché partiremo per direzione Chiavari, dove ci auguriamo di ritornare con un sorriso, il che significa avendo fatto risultato. Virtus Tosta, quella Ligure. Sì, stanno facendo benissimo, sono otto partite che comunque fanno otto risultati consecutivi, è chiaro che tutte le partite sono difficili, andiamo in un ambiente, sappiamo sia di situazione ambientale che del campo, però abbiamo dimostrato di far bene anche su altri campi, l'unica cosa da migliorare è concretizzare un po' quello che facciamo. L'atteggiamento tattico sarà quello visto nell'ultima partita? Vediamo, è chiaro che bisogna ancora analizzare un po' il sito della scuola avversaria, però bene o male credo che stravolgimenti non ce ne sono, perché comunque stiamo facendo bene ed è anche giusto dare un seguito a quello che stiamo facendo. Peccato per Ferrari Amenta, out, Paghera rientra. Sì, sono due giocatori importanti che in questo momento non possono venire con noi, è chiaro che però sicuramente chi andrà in campo al loro posto non sfigurerà e vorrà dimostrare appunto che sono importanti uguali, ma in un campionato penso che l'importanza di una cosa è appunto questo, nel momento in cui ci sono delle assenze, non far pesare queste assenze. Che Lanciano ha chiesto ai suoi? Ma è quello di continuare a migliorare, perché sotto quell'aspetto non dobbiamo mai fermarci, ma soprattutto di iniziare un po' a concretizzare, ecco, perché è vero sì che bisogna vedere la partita anche con il coltone con un aspetto positivo, cioè nel senso che si è recuperata una partita, però è anche vero che lì dove magari sul campo meriti qualcosa in più è ora di portarla a casa. Per quanto riguarda la Virtus Entella, reduce da un lungo filotto di risultati positivi e da un colpo esterno di Terni, saldamente a metà classifica, tutti saranno a disposizione di mister Aglietti, tranne il difensore Simone Simi, infortunato.